Ciao Romy, adesso ti faccio vedere una cosa oi ciccionette, ciao piccoline, ciao ciccionette, ciao piccoline belle, ciao macchettone, ciao maccarlona, ciao spin e tu, allora Romy, lei bianconera è Laura, lei l'ho chiamata Gina, questa bianca caffellatte e lei è Aretta, come Aretta Franklin ce ne manca una che è parcheggiata lì, vicino a casa, non si vede nel video ma c'è, sì ciccionette, sono qui sono qui sono qui sono qui sono qui ciccionette sono qui, cosa vuoi tu che sei una boccia di lardo o sei, cosa stai morficando tu lascia la camicia, lascia la camicia che ti strittola se no, pure a te ti strittola mia ciccionetta ciao Aretta, ciao Aretta ciccionetta, saluta zia Romina, ciao io sono Aretta, quanto sono coccolosa non voglio, cazzo questa se ne sta andando a mordere, mi stava mordendo la camicia e me la stava strappando e lei è Gina, bianca, cioè più che altro è color caffellatte, l'altra è più bianca, ciao Ginetta l'altra non so che nome è d'arte, ciao Romina, ciao Lauretta, anzi tu sei Aretta, ciao Aretta lei è Lunetta, lei è Ginetta, lei ti strittola, e lei è Lauretta che l'ha strittola anche a lei cosa vuoi morsiccare, cosa vuoi morsiccare, cosa vuoi morsiccare, quanto mi piace le coccole, quanto mi piace le coccole, quanto mi piace, ferma! ah